L'ottava giornata del campionato nazionale di serie D, Girone I, porta al Castrovilla di tre punti importanti per la classifica al momento deficitaria ed il personale sigillo di Mattia Gallonna, atteso da tutto l'ambiente rosso-nero, sigillo prezioso che vale la vittoria contro una San Cataldese Maidoma. Con un terreno di gioco al limite, con gli Ultras sempre al loro posto malgrado la temperatura proibitiva, alle 14.34 il signor Marco Baronti di Pistoia dà inizio alle ostilità. Pronti via e padroni di casa in vantaggio, è il minuto tre quando Puntoliere raccoglie una corta respinta di Zappalà, non sappiamo se volesse tirare o servire il compagno, fatto sta che la palla finisce a Pandolfi che carica il sinistro e fulmina dal limite dell'area piccola Franza. Castrovino in vantaggio dopo soli tre minuti dell'inizio del primo tempo con Pandolfi che corre sotto la curva a festeggiare con i compagni. Gli ospiti non si abbattono per lo svantaggio e dal dodicesimo conquistano un calcio di rigore, Maimone dalla fascia sinistra in area per Guayet. L'Omasto si perde il numero 9 siciliano che stoppa di petto a seguire con la punta della scarpa anticipa in uscita Cellitti e cade a terra. L'arbitro non ha dubbio e indica il dischetto del rigore, a noi invece qualche dubbio resta perché nelle mani e nei piedi di Cellitti si alzano per cercare le gambe di Guayet. Dagli undici metri lo specialista Maimone spiazza l'estremo difensore rosso-nero. La San Cataldese agguanta il pari, per i padroni di casa ha tutto da rifare. L'undici di Mestermarra non accusa il colpa, dal diciottesimo ha una buona occasione per ripassare in vantaggio. La Vrendi trova un corridoio per forgione, Di Cataldo buca l'intervento ed il numero 29 rosso-nero si trova da solo davanti al portiere siciliano. Prova a superarlo in uscita con un cucchiaio, la palla purtroppo finisce di poco al lato. Un minuto più tardi è Pandolfi ad avere la palla buona, il numero 7 con Franza fuori dai pali non trova la porta. Al 44esimo ci prova Gallon su calcio di punizione, il Maverick del numero 10 rosso-nero costringe in angolo Franza. Il tempo si chiude con un ultimo tentativo di Pandolfi, di poco al lato. Poi, più niente, dopo un minuto di extra time, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Nel secondo tempo il Castrovillari entra in campo con il chiaro intento di vincere la partita. Al terzo minuto i padroni di casa sono fermati da un fuorigioco molto dubbio su un lancio di Gallon per Pandolfi tenuto in campo, secondo noi, da Costanzo. Sono le prove generali per il vantaggio rosso-nero che arriva un minuto dopo. Lavrendi mette in mezzo sulla destra, Pandolfi buca il primo intervento, poi caparbiamente si rialza eludendo l'intervento di lungo. La palla arriva dalle parti di Gallon che di destro anticipa anche il compagno e batte Franza. Incontenibile la gioia del mimorende per il vantaggio, ma anche e soprattutto perché il gol arriva dal numero 10, attesissimo dai tifosi da otto giornate. All'undicesimo ancora Castrovillari con il capitano Edoardo Catinali che raccoglie la corte respinta della difesa siciliana e di destro impegna Franza. Al ventiduesimo squadre in dieci per il doppio rosso diretto per il capitano Castrovillari Catinali e per il numero 10 siciliano Ficarotta per reciproche scorrettezze che fa imbestialire non poco mister Marra. È evidente che il Castrovillari perde molto di più dalla doppia espulsione che non la San Cataldese. Al trentunesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Ennin subentrato a Pandolfi si gira bene ma il destro del giocatore finisce alto sulla traversa. Al trentaseiesimo si fa vedere la San Cataldese dalle parti di Cellitti su calcio di punizione. La parabola di Maimone sorvola abbondantemente la traversa. Al quarantaseiesimo lo stesso Maimone lanciato in aria in posizione regolare non approfitta dell'occasione per buona sorte dei rossoneri. A quarantanovesimo l'ultima occasione della partita sul destro di un generosissimo puntoriere che con il portiere fuori dai pali non inquadra lo specchio della porta. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro dice che può bastare Castrovillari che con questi tre punti avvicina la cittanovese prossima avversaria dei rossoneri con una partita da recuperare mentre per la San Cataldese continua la striscia negativa nelle partite esterne. Allora mister un'analisi di questa partita nel bene nel male? Su questo campo che analisi si deve fare? Sappiamo bene il valore del Castrovilla, una squadra ben impostata, forte fisicamente. Secondo me se ci fosse stato un campo all'altezza delle due squadre oggi secondo me si vedeva una partita diversa perché poi alla fine episodi sono capitati a noi, episodi sono capitati a loro, loro sono stati più bravi a fruttarli e alla fine ha avuto meglio il Castrovilla. Continua la striscia negativa fuori casa per la San Cataldese, che cosa è dovuto secondo lei? Ogni partita è una storia a sé, siamo consapevoli che anche oggi abbiamo fatto degli errori sui due gol presi, ci lavoriamo, ci lavoreremo per migliorare e non farli accadere più. Penso che oggi era importante vincere e credo che oggi hanno fatto una grossa prestazione sotto il profilo sia tecnico ma soprattutto fisico e mentale. La squadra al di là di quell'episodio del rigore penso che Cellitti non abbia fatto tante parate, mentre noi la cosa che più dobbiamo lavorare è un po' sono arrabbiato che una partita del genere non può stare in discussione fino alla fine. Questo è un motivo per non fare abbassare la guardia durante la settimana, però sono contento perché di solito il secondo tempo noi peccavamo sempre e oggi invece il secondo tempo la squadra è salita sia fisicamente, tatticamente e mentalmente dove non riuscivamo a chiudere le partite. Diciamo che è stato tra virgolette un bene aver finito il primo tempo 1-1.